Samuel Stern numero 37, il rito, ragazzi, finalmente ci siamo, finalmente scopriamo le origini di Samuel Stern. Wabalabadabdabe, bentornati su Novo Ammazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Samuel Stern. Ho letto questo numero, qualche giorno fa sono stato entusiasta di tutto quello che ho trovato all'interno, spero di non dimenticare nulla di tutto quello di cui voglio parlare, ma sarà comunque una recensione a caldo perché su Samuel Stern, su Dylan, faccio sempre le recensioni in questo modo. Se avete notato settimana scorsa è uscito un solo video, tra l'altro era pure pre-registrato, perché appunto il mio apparato Torino-Faringio non sta funzionando molto bene, quindi mi scuso per la voce nasale, ma andiamo subito a parlare di questo numero. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un origin story un po' travagliata e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero, di come sta andando la serie Samuel Stern, se vi aspettavate quello che avete scoperto in questo numero, se vi aspettavate di più, se vi aspettavate di meno dall'inizio della storia rispetto alla fine di questo numero e seguitemi anche sugli altri miei social, ne cito a caso tre Instagram, Twitch e TikTok. Su TikTok non sto facendo un cazzo da un po', però non vi preoccupate, voi intanto iniziate a seguirmi che poi io arrivo. Cominciamo con le note tecniche. Allora, innanzitutto, il rito è soggetto e sceneggiatura di Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, ma scopriamo da dei commenti sotto a un video dello stimatissimo Luca DJ che il buon Filadoro è l'unica firma in realtà dietro a questa sceneggiatura. Quindi io dico soggetto e sceneggiatura di Filadoro e disegni di David Ferracci. David, David, fatemelo sapere. Vorrei partire un attimo dai disegni perché sennò poi mi scordo sempre di complimentarmi perché mi perdo via recensendo parlando della storia. Ecco, tutta questa storia è disegnata in scala di grigi, quindi non solo i flashback, che comunque ci sono e sono in un'altra tipologia di scala di grigi per far capire comunque la differenza, per dire una differenza tra il flashback e la storia al presente è che non sono contenuti nelle vignette. Vedete, le vignette qui hanno un bordo bello evidente in nero e all'interno ci sono delle pennellate di scala di grigi mentre i flashback non hanno proprio il bordo. Quindi riesci comunque a distinguersi tra passato e presente, ma soprattutto a me pare una scala di grigi che grida tantissimo coloratemi, voglio essere ristampato in libreria a colori, fatelo subito, fatelo presto. Ecco, io ho percepito questo, io questo numero lo voglio vedere a colori. È bellissimo, sembra persino a colori già da come hanno trattato i grigi, però mi piacerebbe proprio vederlo a colori. Se questo numero viene colorato come si deve potrebbe ricordarmi tranquillamente un lavoro di Gigi Cavenago. Ma questo numero è anche, diciamo, la seconda parte di una storia iniziata nel numero precedente, il numero 36, L'Uomo del Buio. Questo lo dico perché appunto è probabile che sia più corretto, se dovessero ristamparlo, ristamparlo a colori, è più corretto ristampare entrambi i numeri. Un po' come hanno fatto con la saga di Abisco, fondamentalmente, anche se quello era comunque un formato bonellide, seppur più grosso. Detto ciò, vi racconto un attimino cos'è successo nel numero scorso, se ve lo siete perso. Io comunque vi lascio qua in descrizione e qua nelle schede la recensione al mio numero scorso, ma fondamentalmente che cos'è che muove tutta la trama dello scorso numero? Il fatto che la figlia di Samuel Stern, Lily, viene rapita. Viene rapita... Viene rapita. Viene rapita da Raiden, che è questo sensitivo che era stato ingaggiato dall'agenzia, da Singularity per affrontare il varco interdimensionale che si era aperto ad Abisco, che rischiava, anzi rischiava, che ha fatto passare parecchie ombre, parecchi demoni, e che nonostante fosse un alleato di Samuel Stern, adesso non è più lui, adesso è qualcun altro. Qualcun altro si è impossessato di Raiden e lo sta manovrando come un burattino. Parliamo di una possessione classica, non la possessione tipica che abbiamo imparato dalla mitologia, dalla lore di Samuel Stern, ovvero un'ombra che viene generata dal proprio corpo, dalla propria psiche, dalla propria anima, a seguito di un trauma o di una serie di traumi cronici che crea appunto quest'ombra che è un terreno fertile per far nascere un demone che poi appunto possederà l'essere umano, ma che questo demone fondamentalmente è un figlio dell'uomo, termine non casuale. No, questa, la possessione di Raiden, non è questo tipo di possessione, ma è una possessione classica, cioè un demone che torna dall'inferno. Noi sappiamo che i demoni in Samuel Stern hanno un loro inferno personale che si chiama Legione, quindi un demone che torna da Legione per possedere un essere umano. Non è la prima volta che succede, ce lo hanno già mostrato in un'altra storia, non so se era l'abisso o qualcosa del genere, comunque molto tempo fa era già successo una possessione classica da parte di un demone tornato dall'inferno, quindi sappiamo che può succedere, non è una cosa campata per aria. La cosa nuova è che però la possessione di Raiden non è ad opera di un demone casuale, insomma non è l'ultimo degli stronzi, ma è l'informe in persona. Ho esitato un attimo perché non ha senso dire informe in persona, però fondamentalmente è quello che tutti stanno chiamando l'informe, riferendosi palesemente al principe dei demoni, al diavolo in persona, che magari nella mitologia cristiana, nella religione di padre Duncan, possiamo chiamare anche Satana l'avversario, ma che magari avrà un nome tutto suo, ma che in queste tavole è disegnato con un aspetto inequivocabile, se non bastasse. Ma quello che finalmente scopriamo è che scopriamo dopo anni di numeri dove appunto sembrava che ci dessero qualche informazione in più su Samuel Stern con un piccolo contagocce che ci portava ad acquistare la storia successiva per poi accorgerci che comunque quella informazione era stata archiviata per il futuro e che non veniva esaudita in così poco tempo, non veniva esaudita nel numero successivo, ma semplicemente serviva a riempire come un barattolo di imprecazioni quella lore che piano piano ci hanno raccontato tra le varie trame verticali di Samuel Stern in questi tre anni, ma che finalmente giunge, non dico a una conclusione, ma giunge a una spiegazione, una spiegazione che come l'autore stesso, come Fumasoli stesso, che è il creatore di Samuel Stern insieme a Filadoro, dice non va a concludere un arco narrativo come nel numero 24, ma va a espandere una storia che si protrarrà nei prossimi numeri. Ciò nonostante è comunque un punto fermo, è una pietra miliare questo numero perché ci spiega finalmente cosa è successo, perché Samuel Stern è così e facciamo l'incontro di una figura che era stata solo accennata in passato in vari numeri e che su cui tutti iniziavamo a speculare. Questa figura in realtà si è già vista nel finale dello scorso numero, anche se non è stata chiamata palesemente come tale, ma si era capito, quantomeno si è capito in questo numero se qualcuno non l'avesse capito nel numero scorso, che è finalmente noi incontriamo la madre di Samuel Stern, che niente popò di meno è che una strega, una strega pagana, una strega che conosce dei rituali celtici, scopriamo che Samuel viene anche chiamato in un altro modo dall'informe in persona, quindi forse non è casuale neanche il nome, anche se sappiamo che editorialmente doveva chiamarsi Sebastian all'inizio, ma ci hanno molto, ci hanno giocato molto bene. In realtà Samuel non si chiama Samuel, ma si chiama Samael e la cosa fa molto ridere perché nella grafica la U è composta da una croce rovesciata, che tanto ha fatto indignare qualche minoranza rumorosa, ma se la rivoltiamo diventa una croce dritta e appare il nome Samael, che suona molto celtico e tutta ad un tratto l'ambientazione di Edimburgo, l'ambientazione in queste lande non è più così casuale, ha tutto molto senso e ci tenevo a dirlo, cioè il luogo diventa molto molto importante anche per le origini di Samuel Stern, che è appunto figlio di una strega, ma ciò nonostante, che era una cosa che io pensavo all'inizio della lettura di questa storia, poi mi sono ricreduto, scopriamo che non è che lei lo ha fatto diventare così, lui è già così, per quanto ne sappiamo lei potrebbe essersi affacciata alla stregoneria a seguito di questa scoperta, oppure lei essendo una strega si è resa conto che Samuel era una di queste persone che popolano il mondo, ovvero gli uomini del buio, quindi non solo Raiden è un uomo del buio perché è posseduto dall'informe eccetera eccetera, ma lo è Samuel, sono tutte quelle persone, che sono comunque poche ma ci sono, che riescono a vedere le ombre e proprio per questo possono essere educate a veicolare le apocalissi, che è un po' il compito che l'informe sperava di adibire a Samuel, ma che purtroppo dal momento che Samuel appunto si è mascherato da esorcista, si è mascherato da catalizzatore di esorcismi e non da veicolo per le apocalissi, diciamo che l'informe stesso non vede più in Samuel un perfetto adepto per la sua causa, per la sua apocalisse e quindi rapisce Lily perché è ancora giovane, è ancora piccola, è ancora una tavola bianca e l'informe la vuole tutta per sé per farla diventare la sua personale anticristo fondamentalmente. Vediamo che anche Samuel viene definito anticristo e molti potrebbero pensare che lui è effettivamente il figlio del diavolo. Io in effetti quando c'è la pagina che ci tengo a citare perché così andate a capire che è stato anche, il colpo di scena è stato disegnato da Dio, a pagina 65 quando si ruota la pagina, non ve la mostro perché è una fantastica splash page, temevo e speravo, non lo so, che l'informe dicesse sei mio figlio in una super citazione di guerre stellari e invece no, semplicemente si è limitato a dire sai perfettamente chi sono io, nel senso io sono il diavolo, io sono il padre di tutti i demoni, però temevo anche dicesse io sono anche tuo padre. Cosa che magari, che ne sappiamo, magari verrà anche rivelata più avanti, però in questo caso ci siamo limitati a vedere che l'informe è effettivamente il diavolo. Mi è un po' stupito che lo abbiamo visto con il classico aspetto biblico di demone, con le corna, con le ali, con gli zoccoli, con la coda, in questo aspetto molto, non dico dantesco perché avrebbe molte più teste, però in un aspetto classico da diavolo quando noi in realtà sappiamo che gli angeli hanno un aspetto davvero orribile, terribile e mi aspettavo che i demoni avessero, o quantomeno che l'informe, avesse lo stesso aspetto. Quindi io credo che questo aspetto non sia il suo reale aspetto, ma l'aspetto che lui, con cui lui si mostra agli uomini perché è così che gli uomini lo conoscono, non so se è chiaro il concetto, però secondo me potrebbe avere un ulteriore aspetto reale ancora peggiore di quello classico che noi conosciamo tutti. La realtà alternativa, la profezia in cui vediamo una Lily cresciuta, essere la regina, la sposa quasi del diavolo e dominare sulla terra, mi ha inquietato ma mi ha anche fatto venire voglia di sapere un po' di più di quella storia, che magari non si svilupperà mai, lo spero, in questa realtà. Ma non mi dispiacerebbe, che ne so, che in qualche storia futura, molto futura, questa versione di Lily venga a rompere le scatole al nostro libraio di Edimburgo, senza intaccare la vera Lily, per carità, una sorta di trunks del futuro che arriva, non vorrei mai che questa sia davvero la realtà, però sarebbe molto intrigante vedere quella versione di Lily combattere con il nostro Samuel in prima persona e non solo come visione. Scopriamo appunto che Samuel Stern in un certo senso non è che aveva un'ombra, però vedeva le ombre e le ombre interagivano con lui, proprio perché era un catalizzatore, e quella che inizialmente poteva essere una farfalla, come si era già visto nella Casa delle Farfalle, uccisa da Samuel, con suo sommo dispiacere, perché qualcuno gliel'aveva detto, innanzitutto non era una farfalla, o magari era anche una farfalla, ma soprattutto poi si è messo a uccidere una capra, e sappiamo tutti che lo step successivo è uccidere le persone, scopriamo che appunto Samuel veniva condizionato dalle ombre che sentiva, in questa sorta di peer pressure sovrannaturale, e che grazie agli insegnamenti di sua madre ha imparato quantomeno a discernere da quello che sono le voci nella sua testa, ovvero le ombre, e quello che è il suo vero sé, e quindi a non ascoltare quello che le ombre gli dicono, forse anche per questo che lui riesce a esorcizzare le ombre dalle persone possedute. Nel finale scopriamo che, in un certo senso, Samuel, che aveva un pessimo, se non un nullo rapporto con la propria madre, in un certo senso ci si riappacifica, e la madre aiuterà Lily a gestire, meglio di quanto abbia aiutato Samuel, le ombre che vede e le ombre con cui interagisce, perché come la madre di Samuel dice a Samuel stesso, non è tenendola in una campana di vetro, dicendole che le ombre non esistono e che sono frutto della sua immaginazione, tenendola in un convento lontana da te, lontana da tutto, che la proteggi, così non la proteggi affatto, è semmai educandola a conoscere quello che dovrà comunque affrontare che l'aiuti veramente, e quindi Lily continuerà a stare in orfanotrofio durante il periodo scolastico e passerà all'estate con la nonna strega. Questo potrebbe creare un ottimo personaggio per il futuro, un'ottima catalizzatrice per il futuro. Mi dispiace un pochino che la forma, la figura di Raiden sia stata sconfitta, perché mi sarebbe piaciuto vedere l'informe avere quell'aspetto vita natural durante, cioè durante tutta la saga di Samuel. Sono sicuro che rincontreremo l'informe e avrà altre facce, non ci sarà nessun problema, anzi aiuterà il colpo di scena, però ecco mi sarebbe piaciuto vederlo con quell'aspetto. Se non altro mi piacerebbe che continuasse ad avere degli abiti molto eleganti, come li ha avuti Raiden quando era posseduto. Quindi questo potrebbe essere un po' il fil rouge che collega all'aspetto dell'informe. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia. Questa, a parer mio, è una delle storie più belle, se non per il messaggio, dove ci sono sicuramente storie migliori, quantomeno per la lore, per la psicologia, per la mitologia di Samuel Stern e soprattutto è una delle storie che non avrei problemi a rileggere subito, non appena l'ho finita. Non perché non l'ho capita, ma perché ne voglio ancora e quindi io penso proprio che una volta finito questo video rileggerò di nuovo la storia perché mi è piaciuta tantissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video che è molto lungo e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.